Sconti in bolletta per chi ha subito chiusure durante i periodi di restrizioni dovuti alla pandemia. Le attività imprenditoriali di Castellana Grotte, che hanno registrato un calo di profitto a causa del Covid, hanno ricevuto in questi giorni le bollette Tari con l'applicazione di notevoli sconti. Con questa misura di supporto al commercio, definita come termina dirigenziale, gli sconti in bolletta sulla Tari partono dal 30% ed arrivano anche oltre il 50% rispetto a quanto corrisposto nell'anno precedente. Lieve aumenti invece per le utenze domestiche dovuti agli aumenti del costo di conferimento. Stiamo ultimando le consegne dei bollettini di Tari cittadini castellanesi. Come sapete quest'anno le scadenze sono state procrastinate proprio per andare incontro ai cittadini dopo il Covid, per cui le scadenze sono 30 settembre, 30 ottobre e 30 novembre. Mi fa piacere rimarcare che le utenze domestiche vedranno un aumento in bolletta veramente minimo, minimale, parliamo di pochi euro a nucleo familiare, mentre per quanto riguarda tutte quelle attività che durante l'anno 2020 hanno avuto forti restrizioni di fatturati, quindi cali di reddito dovuti al Covid, vedranno grande riduzione della bolletta Tari. Quindi parlo di pub, ristoranti, pizzerie, i bar, palestre, associazioni, scuole di danza, discoteca, cioè tutte quelle attività chiuse o parzialmente chiuse, comunque, come promesso da questa amministrazione, avranno sconti anche del 60-70% e più sulla bolletta Tari rispetto all'anno scorso.